Bene a tutti ragazzi sono GhostFrax Senza cosa Bene ragazzi sono Frax e eccomi tornato con il prossimo video sul mio canale Oggi insieme a Frax E ragazzi dato che Dato che c'è Frax Ne approfitto anch'io Dato che oggi è il suo compleanno Questo Frax Questo Frax time Facciamolo arrivare a 20.000 mi piace come auguro di compleanno per Dreddo Sul tuo canale Anch'io grabbo i like grazie a Dreddo Grazie, sei un vero amico Grazie per farmi fare i like su YouTube Mi hai raccomandato Qual è stata la tua velocità massima raggiunta da guidatore e da passeggero? Vai rispondi te Ma io ho 1000 km in aereo da passeggero Più o meno Io penso pure sì ho raggiunto Hai raggiunto le cifre incredibili Ho raggiunto la cifra del suono No praticamente Da guidatore io ho 180 Io la mia precisamente è 186 No la mia è 180 però la macchia mia la lancia arriva Stavo un po' in discesa col vento a favore e in riserva E con due che spingavano dietro E in riserva perché se non ci arrivavo Senza filpa io pesavi di meno Esatto E non è facile E io 186 però peso più di lui Quindi la macchina potrebbe anche arrivare a 190 Però magari io ho meno benzina quindi E' tutto E quindi pesavi ancora di meno Lascia perdere Mattia Barcherini Frax Ci puoi dire i componenti del tuo nuovo computer? Bella Frax sei un torp Sei un torp Io un torp Allora I componenti del mio pc sono No non ve li dico Perché nei prossimi giorni uscirò un video epico Con due ragazzi epici E dove parleremo del computer Quindi aspettatevelo Sarà un video cazzudissimamente epico Quindi Grazie tutti i cazzi E li scoprirete tutto del pc Tutti i cazzi Mi sono iscritto ad Instagram solo per seguirti Perciò metti questa domanda al Frax Time In quale città del mondo dovresti vivere? Così Random Ah intanto L'avete capito tutti Dovete fare due cose Dovete seguire I'mfrax su Instagram I'mfrax E Matteo SPQR Ovviamente SPQR Che è lui Se non avete Instagram Fatevelo Frega cazzi Ve lo fate E ci seguite Poi non mettete like alle foto Siete completamente inattivi? Sti cazzi Ci seguite su Instagram E punto e basta In quale città Io? Io l'ho già detto Quale? Ah Io E' nello stato del Blaling Avvive a San Francisco Perché è bellissimo Ah però di non Sono della Dina Sono della Dina No io Lavorativamente parlando Milano Vorrei andare a vivare a Milano Altrimenti direi Direi Che direi? New York Direi New York Oh Mi chissà Spruita Sei mai stato in Calabria? Sei mai stato in Calabria l'anno prossimo? Ancora non lo so C'è l'anno prossimo c'è la seconda edizione del Cosenza Comics Allora cancelliamo il pezzo del Cosenza Comics perché non so se ci andrò o meno dato che non sappiamo a che fiera andiamo Però sei mai stato in Calabria? Sì io sono stato a Villa San Giovanni in Calabria per la precisione che ho un sacco di amici a Villa San Giovanni e ci ho passato pure un'estate tra virgolette E credo che tra un po' di tempo andrò a Cosenza signori così perché mi vado a fare un viaggio a Cosenza Alessandro Però non andrò al Cosenza Comics ma verrò a Cosenza Alessandro Cosenza Io o no? Non ci sono mai stato Finito così No al sud sono stato solo in Puglia Solo in Puglia dove? 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 De Salento No? Volevi dire a In provincia di Dax Che tipo Frax Io sta domanda te la faccio finché non rispondi Qual è la tua cucina preferita? Ma quella dell'Ikea è fatta bene Quale paese svezi? E se dovessi mangiare un piatto per il resto della tua vita solo in base al gusto Cosa sceglieresti uno di porcellana? Ok allora la cucina preferita Ikea, paese svezia di Ikea e poi il piatto di porcellana Vabbè allora sceglierei la cucina italiana per la vita Per forza Ma proprio così Quale paese? Italia Italia Anche perché se no ti risponde la cucina thailandese che gli dici? Quale paese? Germania Taiwan E se dovessi mangiare un piatto per il resto della tua vita sceglierei il filetto di carne Wagyu Anche lui Non è vero Non è vero Io la pizza La pizza Mi piace la pizza Portatemi al napoli e date me la pizza Io vomiterei dopo un po' che la pizza Cagane guaglio mai Ti sbarro negli occhi Vabbè dai diciamo che il Frax è finito Un duran cazzo però Amo risposta a 5 domande alla fine Così va la vita Se vuoi lo allunghiamo Vabbè dai il Frax su temi è finito 20.000 like Cioè Ghostred A 10.000 comunque domani esce il Frax E allora La Frax è tutto Oh no Sì 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 Sì